La difesa dei diritti dell'uomo risulta molto importante a partire dalla dichiarazione universale per i diritti dell'uomo che fu appunto proclamata il 10 dicembre del 1948. È necessario quindi continuare a battersi per tutelare l'umanità intera, a partire dalla manifestazione del pensiero oppure dalla libertà di espressione che purtroppo ancora oggi questi diritti vengono negati. I diritti dell'uomo rivestono una relazione molto decisiva per quanto riguarda i rapporti con l'Unione Europea quindi è importante che tutte le organizzazioni si agiscono per tutelare e per proteggere le violenze che ancora oggi nel mondo vengono commesse e tutte le ingiustizie che ne derivano. Il 10 dicembre del 1948 è la giornata mondiale dei diritti dell'uomo. Grazie. 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 Grazie.